Abbiamo fatto una grande partita, abbiamo giocato bene, senza paura, non abbiamo paura di dirlo, abbiamo giocato bene. Ma insomma sta Roma ieri? Benissimo, è andata la grande, abbiamo giocato benissimo, però c'è questo piccolo particolare che abbiamo perso. Allora, vinciamo a Salerno 0-1 e non vi sta bene perché abbiamo giocato male, vinciamo in casa 1-0, abbiamo giocato male e non vi sta bene, vinciamo in casa 3-0, quant'era? Abbiamo giocato male e non vi sta bene nemmeno quello, poi pareggiamo a Torino 1-1, ma non va bene che abbiamo giocato male, ieri 0-1, Roma a Champagne, tanto occasioni, grande calcio, abbiamo perso e non vi sta bene manco quello. Quindi mi domando e dico, ma quando mai vi starà bene qualcosa? Ma ti fate la Roma invece di stare sempre a criticare? Dai che Roma! Eh sì, perché così Kiffi fa il Kiffi, Gasperini soghigna dicendo loro hanno dominato, noi ci portiamo a casa i tre punti. Ma abbiamo sprecato troppi gol, come l'anno scorso, ma se ci pensate, a parte l'infortunio di Dybala, 9-11 della formazione di domenica pomeriggio era la stessa dello scorso anno. Troppi tocchetti, troppi giochetti, troppi leziosismi, ma siete d'accordo con me che giocando un po' più concretamente la rete si sgrulla più facilmente? E ora contro l'Inter, che non sarà l'Inter in crisi di questi giorni, perché tornerà Lukaku. E poi Mourinho, starà in panchina? Forza Roma! E taglio Mourinho! Grazie! Grazie! Grazie!